Al lavoro per il rilancio L'accordo tra governo e parti sociali dà una possibilità in più a lavoratori e aziende. Puoi accedere al vaccino anti-covid-19 anche sul tuo luogo di lavoro, che si aggiunge ai punti di somministrazione già presenti sul territorio. Vaccini sui luoghi di lavoro. Uniti per la ripresa in sicurezza. Grazie a tutti.